Sono degli strumenti molto difficili da suonare, non tanto perché siano strani ma perché bisogna abituarsi a suonare a meno 12 gradi centigradi con le dita che rischiano di ghiacciarsi tutto il tempo e le corde che continuano a calare. E' degli strumenti molto forti perché quando vengono suonati l'emozione che sente il pubblico è fortissima. Grazie. 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 Grazie.